ciao fanciulle benvenuti in un nuovo video video di prodotti gratis video di cashback sarà un video breve perché ho solo due cose da farvi vedere ma ci tenevo a pubblicarlo oggi perché siete ancora in tempo se magari dovete fare qualche regalo pensiero per natale allora partiamo dalle basi allora partiamo dal 50 per cento che è gilette io sono nata al conad ma questa proma attiva ovunque comunque prima di acquistare se avete bisogno scrivetemi in direct su instagram non vi consiglio magari di scrivermi qua perché le notifiche mi arrivano un po più tardi scrivetemi in direct su instagram e io vi rispondo se avete dei dubbi o vi mando il regolamento praticamente acquistando due prodotti gilette di una determinata linea che non ho ancora capito qual è comunque ci sono tutti i codici a barre sul regolamento acquistando due prodotti avrete il 50 per cento di sconto cosa significa che io ho comprato questi due ovviamente per paolo pagati 16 qual è il power questo 16 euro e 71 insieme a un furto e questo 16 euro e 21 quindi prendendoli entrambi ho il 50 per cento di sconto quindi mi verrà rimborsato 16 euro 50 più o meno speso 33 euro 16 euro 50 mi verranno rimborsati direttamente sul mio conto corrente cioè mi arriverà un bonifico da 16 euro 50 poi sempre al con e ho fatto uno scontrino ovviamente potete fare una persona una promo quindi io queste ne ho prese solo due perché 30 euro mi sembrano già sufficienti a nome mio lo farò solo io a nome mio e secondo me dentro ci sono 5 e 5 ricariche 10 secondo me gli bastano tutto quello che ne fa paolo secondo me gli basta poi non pubblicerò questo video su instagram quindi chi non mi segue su instagram amen chi invece di solito si trova la l'indirizzo non lo troverà questa volta perché sono cose che poi io sono pensierini che darò per natale a paolo scusa e quindi non glieli voglio far vedere poi sempre da conad ma in realtà lo potete fare anche questo se non ricordo male ovunque io ho preso questi due prodotti però se dovete fare un regalo a un fratello cugino marito fidanzato vi consiglio di guardare ci sono delle confezioni l'ho vista una al conad che costa 40 euro ad esempio ma ci sono diverse confezioni con rasoio regola barba schiuma creme quant'altro di questa linea qua che è king c gilet ve la faccio vedere bene questa avete il cashback del 100% cosa significa voi entrate sul regolamento controllate i codici a barre se sul regolamento c'è questo codice a barre voi lo comprate lo pagate dopo di che andate sul sito sempre tramite il regolamento lo vedete qual è il sito se avete bisogno io vi lo mando inserite i codicini che ci sono qua sullo scontrino quindi l'importo la data l'ora e il numero e a voi vi arriva sul conto corrente l'importo che avete speso ora io non ho preso il da 40 euro perché non mi serviva però vi rimborsano un massimo fino a 50 euro quindi dovete prendere un prodotto cerco di spiegarmi un prodotto vi viene rimborsato del 100% cosa significa che io ho preso io ne ho preso due e ho fatto due scontrini ho preso king c most sarà questo e questo è questo ok basimo allora questa qua io l'ho pagata 9 euro e 47 mi sembra follia 9 euro e 47 ah buona e andrò sul sito con lo scontrino farò la foto manderò e sul mio conto corrente mi arriveranno 9 euro e 47 paolo che sa che io faccio cashback riceverà invece 9 euro e 33 che è la cifra che ho speso per comprare questo che è una crema idratante per barba e viso però ripeto di questa linea se cercate bene perché al conno da me c'erano questo questo e un rasoio però se cercate bene esistono delle varie combo quindi riuscite a fare anche un bel regalo 40 euro ma voi vi rientrano e più codici fiscali avete cioè voi io potevo che ne so prenderne un altro per fare un regalo e farlo a nome di mia mamma i soldi arrivavano sul conto di mia mamma però comunque per ogni domanda io sono qua se posso vi rispondo e quindi niente questi due prodotti li ho presi completamente gratis risparmiando 9 9 18 19 euro comunque sono due pensieri che darò paolo a natale insieme a questi due che ho pagato invece che 33 16 euro quindi la mia spesa oggi di questo è 16 euro se dovete fare dei pensieri a natale questi poi adesso in un altro video che farò a fine novembre quindi non so bene quando lo vedrete voi sì comunque a fine novembre capirete dove metto questo 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 e questo l'avete già capito secondo me ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao